Sì, mi piace Pablo Minales, ti seguo sempre, ma tra bambini indaco, insetti artificiali, scalpe sporche di merda, vegetariani, dici anche un sacco di cazzate, secondo me per fare dirette lunghe ti fai di coca. Ah, questo è un altro di quelli, io leggo tutti i messaggi, questo è un altro di quelli che... Va bene, va bene, quindi questo è uno che verrà gentilmente accompagnato alla porta. Quindi, quindi, mi ha accompagnato alla porta questa Caterina, ciao Caterina, ti voglio bene, però stai fuori, ok, se vuoi ascoltare, ascolti da fuori, ok. Allora, quant'è vera la scuola dura della...